Nessuno è partito, credo, in Italia ancora con la campagna abbonamenti e soprattutto perché attualmente nelle marche non si può assistere agli incontri di calcio come di basket. Noi la chiamiamo questa campagna la carica dei mille, i mille garibaldini e la carica dei 101 per intenderci. Abbiamo fatto con Accanto che ci ha realizzato questa campagna perché noi vogliamo che possino entrare allo stadio più persone possibili. I criteri sono semplici, presto spiegabili, tutte le persone che hanno l'abbonamento avranno la priorità, poi sarà il tempo e le regole governative a definire quanti saranno coloro che potranno entrare. Noi abbiamo messo a disposizione come ipotesi, e abbiamo considerato ovviamente la peggiore, 550 abbonamenti, 400 destinati al Prato e 150 alla Tribuna. E questo è tutto, poi vedremo di risolvere il problema nel momento in cui non si potrà accedere perché allora potremo pensare a rimborsare questi abbonamenti, ma rimborsare non in termini economici, ma rimborsarli dando quindi la possibilità di poterle ugualmente vedere le partite, perché proporremo ai nostri tifosi l'abbonamento dell'Ileven Sport. Per l'occasione il DG bianco-rosso Vlado Borrozan ha voluto far recapitare un proprio messaggio ai tifosi per ringraziare tutti dell'affetto ricevuto dopo il triste episodio che lo ha visto protagonista la scorsa settimana. Cari miei, vi ringrazio ancora per l'immenso amore ed affetto che mi avete dimostrato a me e alla mia famiglia. Ci tenevo a scrivervi, voi tifosi della VIS, perché i miei pensieri sono sempre lì con voi e per voi. Vi chiedo una sola cosa, essendo la VIS da 122 anni la gioia e la disperazione di questa città meravigliosa di tante generazioni, un'eredità colma di passione e di amore, che abbiamo il dovere di costudire ed onorare. Vi dico con assoluta convinzione, è arrivato il momento di tirare fuori il petto, di alzare le braccia verso il cielo, e tutti insieme vecchi e giovani, perché oggi la VIS è forte, perché oggi la VIS è di granito, perché oggi la VIS, la nostra VIS, è come sempre abbiamo sognato. Il vostro tifo, la vostra presenza, sono il nostro ossigeno, la nostra linfa, il motivo di fare sempre meglio, di mirare traguardi inimmaginabili mai raggiunti. Voi siete la nostra forza, vi abbraccio e tornerò presto tra voi. Vlado Borza Al termine della conferenza, il giocatore biancorosso Flavio Lazzari ha voluto commentare il match in programma per domenica. Modena contro VIS Pesaro Dobbiamo prepararci noi in primis come squadra, sapere quali sono i nostri punti di forza e andare a lavorare su quelli e mettere in difficoltà, perché, ripeto, siamo una squadra che se lavora bene può dire la sua con tutte le squadre di questo girone.